Questo piano triennale si basa sulla filosofia di mantenere fede a quello che è il ruolo di banca locale, ruolo che la banca ha sempre avuto dalla sua costituzione in S.P.A. nel 1991 e dunque forte attenzione al territorio, forte attenzione alla crescita e al generare esternalità positive per il territorio, al di là della mera reddittività di breve periodo. Questo si concretizza in un piano di crescita in particolare per quanto riguarda gli impieghi e il sostegno al territorio con un focus particolare sulle famiglie e sulle piccole e medie imprese. Naturalmente abbiamo dovuto confrontarci con quelle che sono le sfide che ha posto al nostro azionista di maggioranza, cioè la fondazione, il protocollo ACRI. Noi riteniamo che questo sia il momento giusto per iniziare a valutare un progetto di più ampio respiro che vada a toccare la provincia di Cuneo e che veda coinvolte le banche, le S.P.A. territoriali che ci sono, in particolare le casse di risparmio vicino a noi. Con oggi noi abbiamo voluto aprire un dibattito, dare la nostra disponibilità a confrontarci su questi temi in modo costruttivo, probabilmente cercando di fare ciò che non si è mai riusciti a fare in passato, ma che oggi noi riteniamo sia possibile perché ci sono le condizioni.